Pio e Amedeo al centro delle polemiche in queste ultime ore non fanno sconti infatti a Barbara D'Urso e lanciano direttamente pesanti frecciatine dopo la sua uscita dai palinstesti Mediaset. Una notizia infatti quella di Barbara D'Urso e l'addio a Mediaset che a quanto pare rende felici Pio e Amedeo. I due comici pugliesi non hanno nascosto il fatto di non essere assolutamente amici della grande conduttrice di Pomeriggio 5. Due comici pugliesi infatti dal palco del Marateale non hanno risparmiato delle frecciatine nei confronti di Barbara D'Urso dopo l'addio a Mediaset. Infatti loro sul palco dicono così quando ci hanno detto venite al Marateale eravamo contenti dicono Pio e Amedeo perché c'era Carlo Verdone, il No Banfi, poi abbiamo visto che c'era Barbara D'Urso e abbiamo detto chiamano cani e porci pensavamo di non meritarcelo. Poi abbiamo visto Barbara D'Urso ha dichiarato a Medeo sul palco della rassegna cinematografica. Lo sanno tutti dice che non ci vogliamo bene con Barbara solo che non lo diciamo e a noi non ce ne frega niente. Ha aggiunto poi Amedeo che già in passato negli show trasmessi su Canale 5 non avevano risparmiato delle stoccate nei confronti della presentatrice napoletana. E ancora Amedeo continua ma quando Pier Silvio ha detto non ci sarà Barbara ma quanto è stato bello. Noi misuriamo la grandezza di personaggi che fanno questo lavoro quando si mettono in gioco. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere a che fare con gente di calibro tipo Maria De Filippi che dal primo all'ultimo giorno si è fatta mettere in mezzo. La grandezza di una personalità si vede anche da questo. Salutiamo Barbara. Ciao a Richiosato poi Pio. Intanto in queste ultime ore Barbara D'Urso è tornata a parlare della Dia Mediaset e pur senza nascondere la sua amarezza dal punto di vista umano ha ammesso che presto potrebbe ritornare con nuovi progetti. Però adesso sono top secret e voi che cosa ne pensate di Pio Amedeo e di queste affermazioni senza peli sulla lingua dette a Barbara D'Urso? Scrivimelo giù nei commenti sempre se ti va. Io ti aspetto per questo ma tanti altri prossimi video. Ciao!